Partendo dall'esperienza positiva dello sportello energia di Settimo Torinese e dell'innovativo allegato energetico al regolamento edilizio che in questi cinque anni ha consentito che sul territorio venissero realizzati moltissimi interventi in classe energetica e superiori di quelle prescritte dalle normative vigenti, ora l'amministrazione ha deciso di mettere in campo nuove politiche attive per il comparto edilizio. Per noi è particolarmente importante coniugare lo sviluppo del territorio con il rispetto del territorio stesso, per quel che riguarda le politiche urbanistiche in questi anni noi tenteremo il più possibile di incentivare gli interventi di riuso del territorio e di rigenerazione urbana, nella logica di rispettare il territorio in termini sia di utilizzo sia di qualità del costruito. Da almeno 15 anni Settimo Torinese ha ragione in questo modo, il primo esempio che a me viene in testa è sicuramente il recupero dell'area delle acciaierie Ferrero, ma ad esempio l'area dove siamo oggi, quella della piazza Campidoglio e della biblioteca Archimede è un grande esempio di rigenerazione. Noi pensiamo di poter continuare a lavorare su tre filoni dall'immediato, il primo la costruzione di un'incentivazione attraverso della scontistica sugli oneri di urbanizzazione, privilegiando in maniera molto forte gli interventi che fanno riuso di suolo, rigenerazione urbana e bonifiche. Dall'altra parte è contestificativa che ormai è cinque anni di vita, che è quello dello sportello energia e dell'allegato energetico, per permettere la realizzazione di immobili e fabbricati che siano il più possibili compatibili con l'ambiente. In ultimo, ma è un tema che potremo aprire ragionevolmente solamente in futuro, ed è il ragionamento sulla fiscalità locale, e quella cioè di fare delle politiche fiscali che permettano anche qua di indirizzare lo sviluppo del territorio attraverso interventi che abbiano a cuore il riuso del territorio e la gestione del territorio in maniera il più possibile compatibile con l'ambiente. I punti cardine sono da una parte la sostenibilità energetica e l'innovazione tecnologica degli interventi, dall'altra la volontà di promuovere e incentivare le trasformazioni che non solo non consumano a suolo, ma che, viceversa, svolgano il ruolo di rigenerazione urbana.